Buon pomeriggio dalla redazione di Flores Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1, tre chilometri di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna per un veicolo in avaria. Sulla FIPILI segnalato personale su strada per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno, sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per una frana tra Giardinetto e Popiglio e tra Popiglio e la Lima, sulla statale Trebbis di Berina riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna. Per quanto riguarda i traghetti, a causa delle condizioni meteo sono stati cancellati gli aliscafi da Piombino a Cavo delle 14.55 e delle 16.05. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!